Oggi ci troviamo qui al campus Peroni per parlare ancora una volta di una della produzione nazionale dell'orzo quindi una birra fatta con orzo quindi con malto al cento per cento italiano partendo proprio qui dal Lazio da Roma dove vede una produzione che vede una produzione dell'orzo al 33 per cento e quindi così come tutto quanto il centro Italia. La nostra intenzione è quella di proseguire sul sostegno alla filiera di orzo nazionale quindi a tutte quante le filiere che mettono al centro il prodotto nazionale, le materie prime nazionali perché è sempre più grande la sensibilità e l'attenzione da parte dei consumatori della provenienza delle materie prime e in questo birra Peroni sicuramente è una portatrice di questo nuovo modo di vedere l'agricoltura di questo modo nuovo di vedere l'agroalimentare quindi compito delle istituzioni chiaramente è sostenere le filiere a partire da quella dell'orzo di cui parliamo qui oggi anche con dei provvedimenti legislativi tanto che in commissione agricoltura ho proposto un emendamento per abbattere l'IVA dal 10 per cento al 4 per cento sulle semine d'orzo e chiaramente anche su tutti quanto l'orzo in modo tale da incentivare la produzione di questo prodotto, di questa materia prima.